Ospite delle interviste di Traderlink di oggi Giacomo Moglie, analista tecnico per dare insieme uno sguardo agli indici. A te lo schermo e la parola. Bentrovata Rossana, mercati titubanti questa prima parte di settimana, non lontani dai relativi massimi, focalizzati soprattutto sulla traiettoria attesa dei tassi e con crescente attenzione da un lato alle prospettive di crescita del PIL, dall'altro agli utili del secondo trimestre in uscita con le trimestrali, domani la volta di invidia. Soffre un po' di più il Fuzzimib qui osservato su Visual Trader a candele giornaliere che ieri ha visto lo stacco dividendi e risulta quindi anche traslato in basso dell'1,4% proprio a causa dividendi. Il monitoraggio a questo punto è sulla rispondenza dei relativi supporti. Per il Fuzzimib qui osservato dicevamo area 34.350-34.400 punti indice significativa in quanto qui vi transita la media mensile dei prezzi che se bucata lascerebbe aperto lo spazio per un'ulteriore discesa sino a area 33.800-33.900 dove transita Rossana e successivo supporto dinamico di riferimento per il periodo, vedete allargando il grafico, vediamo che non viene intercettato a ribasso tale livello dinamico dal novembre 2023. Passando agli indici internazionali, in questo caso al DAX, il grafico qui è ancora quello a candele giornaliere, l'indice tedesco sta sperimentando uno stimolo progressivamente inferiore dal test dei supporti di brevissimo. Ora in transito in area 18.700 punti indice il baricentro dei livelli dinamici, tra l'altro laterale ormai anche dal 10 maggio. E sull'S&P 500 abbiamo una notazione di maggiore forza relativa di brevissimo, l'indice americano è impegnato nella tenuta dell'area grafica sopra i 5.265 punti, indice già di massimo a fine marzo, vedete qui dal grafico rotto a rialzo a metà settimana scorsa. Per ora non abbiamo ancora una notazione di rientro dall'indicazione di positività anche di breve sull'S&P 500, a differenza dunque del FUZI MIB, ma una chiusura di seduta sotto i 5.280 punti indice quest'area in viola. 5.290 farebbe già scattare un primo allarme nel brevissimo. Dunque Rossana ci troviamo con strutture di brevissimo sugli indici che sono chiamati a rispondere al test di tenute dunque di coerenza con le strutture tecniche di più ampio respiro che non smobilitano ancora dal quadrante della positività di periodo. Dunque monitoraggi in corso rispetto ad una valutazione di continuità dell'aspettativa di positività Rossana. Perfetto Giacomo ti ringrazio per tutte le indicazioni, io rimando con te l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a voi.